Torna con la non edizione il trofeo Carlo Lovari e Lucca riapre le porte al grande basket della serie A. Il 14 e il 15 settembre il parquet del palatagliate di Lucca diventa protagonista di un quadrangolare di palacanestro in cui si sfideranno prima dell'inizio ufficiale della stagione quattro tra le più importanti squadre italiane. L'evento è targato amici della palacanestro Lucca, Luca del Bono e Ollus. Abbiamo Dertona, Venezia che ormai sono due squadre che ci omaggiano della loro presenza e siamo proprio felici di riaverle. Pistoia che l'anno scorso ha fatto la sua apparizione dopo anni e abbiamo piacere di riospitarli anche quest'anno, ho dovuto reduci da un bellissimo campionato che gli auguriamo anche per il prossimo e la quarta squadra, interessantissima squadra che ha vinto addirittura la Coppa Italia l'anno scorso, che è Napoli Basket, quindi sono quattro squadre di ottimo livello per due giornate al top. I biglietti saranno disponibili alla vendita da partire da agosto, il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Quest'anno hanno partito con il palacanestro perché verrà il Montecatino a giocare al palatariato e quindi di fatto ci sono gli ingredienti che è un grande anno di palacanestro anche perché le società nostre e il territorio hanno dimostrato lo scorso anno di lavorare bene tutte, quindi ci sono ovviamente questi ingredienti. Per cui il ringraziamento va agli amici palacanestro del Bono e Ollus perché poi il Lovari fa parte di una serie di iniziative che fanno ricadere sul territorio tutta una serie di vantaggi a livello di infrastrutture, penso al Campione San Filippo, a livello anche dei contributi sociali che loro portano avanti.